La situazione ecologica, non c'è cura pubblica, non c'è codimento dei diritti civili, con il punto di ricaduta principale, la causa palestinese. La situazione ecologica, non c'è cura pubblica, 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 Importante, il fuori salone, sborsalizzato da... Goli fuori assasini, libera! Che cazzo che hanno fatto? Goli fuori assasini, libera! Goli fuori assasini! 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 Alessina immortale! Alessina immortale! Alessina immortale! Alessina...